Lo Sblocca Italia, dato i risultati sperati dal governo Renzi, il ministro dell'Ambiente Galletti, è riuscito a evitare la valutazione ambientale strategica che la Commissione europea aveva chiesto e ormai il decreto attuativo dello Sblocca Italia è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. La conseguenza è che saranno costruiti dalle multiutiliti otto nuovi inceneritori in Italia, oltre all'avvio di altri cinque impianti già autorizzati ma non costruiti o non in esercizio, sempre che non abbiano successo i ricorsi delle associazioni ambientaliste al Tar del Lazio. L'effetto potrebbe arrivare fino a Cremona, dove molti temono che l'impianto di via Antichi Budri venga ampliato per bruciare rifiuti provenienti da altre regioni, in particolare dal Meridione. A Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, sono arrivate alcune ecoballe campane da trattare e poi bruciare, da quanto hanno fatto sapere Andrea Fiasconaro e Alberto Zoletti, che hanno chiesto chiarimenti al Ministero. A Cremona, il centro-sinistra, ha accettato il confronto con i Cinque Stelle. Francesca Pontigia ha chiamato Maria Lucia Lanfredi per chiedere i nominativi dei medici da invitare in Commissione Ambiente, dove ai primi di dicembre sarà discussa la proposta di effettuare uno studio epidemiologico sulla popolazione, per chiarire se è vero o no che l'inceneritore è causa o con causa di malattie anche mortali. L'intenzione del PD, secondo le indicazioni già condivise dalla regione, è di allargare lo studio a un'area più ampia, vista la presenza di industrie e di attività con un evidente impatto ambientale. Dalla raccolta differenziata, nel frattempo, nasce un'altra grana. Dopo le segnalazioni dei comitati di quartiere, è partita un'interrogazione della stessa Lanfredi per sapere quando a Cremona sarà applicata la tariffa puntuale, come a Parma, viste le lamentere di chi fa la differenziata e rischia di pagare le multe che i vigili danno al condominio, dove una parte dei residenti nemmeno differenzia i rifiuti e non paga neanche le spese condominali. Gli errori di alcuni ricadono così su tutto il condominio. Con la tariffa puntuale, invece, ciascuno paga secondo la quantità di rifiuti che produce.